ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti bentornati in questo nuovo video allora come prima cosa vi chiedo come state io spero ovviamente come sempre tutto è molto 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 bene 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 io sto bene ho ricominciato l'accademia proprio questa settimana e stiamo facendo molte materie interessanti di cibo allora le materie sono un pochino più complesse per quest'anno per il secondo quatimestre io lo chiamo quatimestre perchè saranno marzo, aprile, maggio, giugno e a luglio ci sono gli esami e proprio ieri abbiamo fatto una materia che si chiama web design tipo creazione di siti web html ho paura perchè non ho mai fatto niente del genere quindi se tra di voi c'è qualcuno che fa queste cose per favore mi tranquillizzi e mi dica che è semplice perchè veramente non sapevo nemmeno prendere gli appunti ieri già figuriamoci quindi spero che sia una cosa non troppo complessa per non arrivare all'estate spilita però patto 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 alle cianci siamo qui per rilassarci insieme e io spero di farti addormentare in meno di 10 minuti ho lasciato dei sondaggi aperti sulla community nella sezione community allora due sondaggi avete votato tra suoni inaudible e whispering più il whispering però anche l'inaudible non è andato male invece suoni solamente tipo il 7% di voi e la cosa mi fa super piacere perchè anche secondo me quel tempo va assolutamente più che bene per usufruire di un rilassamento molto 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 intenso quindi in questo video internerò il whispering con l'inaudible e la tecnica di rilassamento sarà proprio questa alternanza più cosa contraddistinguerà questo video ossia uno show e tell dei miei autoregali e credo anche di alcuni regali che mi sono stati inviati e sono arrivati proprio l'8 marzo che era la festa della donna io vi do gli auguri passati a tutte 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 le ragazze e le donne del mio canale che fanno parte di questa bellissima comunione di famiglia vi do tanti 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 auguri e mi auguro veramente che le donne possano fare tantissimi altri passi avanti già ne abbiamo fatte nella storia dal 1900 ora ci sta un abisso però possiamo fare di più possiamo fare molto 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 di più per far prevalere i nostri diritti e mi auguro veramente che ci riusciremo sicuramente ci riusciremo ma che ci riusciremo in meno il tempo possibile anche perché la nostra società insomma corre diciamo che molte cose si stanno capendo molte cose si stanno intuendo però non è ancora abbastanza bisogna sempre cercare di far prevalere i propri diritti in qualsiasi contesto e diritti umani parlo di diritti umani quindi ci do questo augurio speriamo in un futuro un pochino più aperto ovviamente sempre si sperano un futuro migliore dopo questo piccolo discorso vi faccio vedere che cosa vado a fare in questo video vado a fare in questo video allora li ho dei regalini sia che mi sono fatta che mi hanno fatto come appunto e penso che mi sono ripetendo inizierò per la linea tipo il fatto fino allo strumentale allora inizierei dal pacchettino piccolo che devo avvicinare allora io inizierei dal pacchettino più piccino ho fatto una cosa in off praticamente ho aperto tutti gli scatoli perchè a parte un rumore incredibile che non mi avrebbe assolutamente fattire la storia e poi per facilitarmi un po' non perchè sennò avrei dovuto tagliare il video ogni volta che spacchettavo qualcosa quindi andiamo a partire un regalo che mi è arrivato grazie mille la volevo troppo 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 provare e vi giuro che in diretta con voi già se vedete qua c'è tutto lo spacchettamento il disordine più incredibile allora questa è una tipologia di pasta e penne rigate beh un'idea di carboidrato 40% di calore in meno 50% di carboidrato in meno e 5 volte in più di fibre questo è positivo perchè le fibre fanno bene e disaziano molto per lungo io che soffro di fame per anni costante forse ho trovato una soluzione per i miei pasti per cercare di saziarmi un po' di più allora è una pasta di semola di grano duro con fibre vegetali ingredienti si ammola di grano duro biologico al 63% fibre vegetali al 29% contiene fibre di frumento e avena farina di contact e perchè allergico può contenere può contenere anche traccia di salone non è sicuro però potente preparazione cuocere in acqua bollente è abbondante per 14 minuti scolare e condire a piacere per una porzione che è valente a 85 grammi di pasta convenzionale cuocere un po' di 65 grammi che peserà 175 dopo la cottura per conservare il luogo fresco che è sciolo aiuta a mantenere normali il livello di colesterolo nel sangue ha un altissimo contenuto di fibre ricca di salimi minerali nutrienti insomma è una pasta un po' più sana allora io ho ricominciato a mangiare pasta normale però comunque qualche volta quando non si vuole non si ci vuole troppo di sentire di un piatto di pasta secondo me questa è ottima e poi non vedo l'ora di provarle di farci tante 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 ricette e veramente non vedo l'ora veramente di provarle anche perché sembra pasta normale guardate cioè sembrano pellette normali un paio di pasta adoro i fusilli le pennette e gli spaghetti queste tre tipologie di pasta sono buonissime tipo non mi piacciono le conchiglie le farfalle le farfalle proprio le odio mamma mia mi ricordo da piccola quando mi facevano trovare le farfalle non le mangio perché mi ha sempre fatto un po' riprezzo quella pasta e poi per i macchironi o le mezze maniche non mi fanno visto proprio impazzire però le pennette io uso gli spaghetti sono delle buone paste e qui invece sono conditi con pomodori olive basilico però io credo che farò più ricette come panna e salmone oppure la carbonara che sto adorando oppure pennette col pecorino oppure cime di rapa e il formaggio oppure cime di rapa e guanciale tipo cose del genere però possiamo provare anche qualche ricetta più vegana perché no? ok vediamo cosa c'è in quest'altro pacchetto che poi io adoro i pacchetti questi pacchetti quindi faccio la collezione vediamo prima se c'è il piettino non c'è il piettino oddio lo volevo veramente da tantissimo tempo grazie mia che poi hanno cercato la postina verde con il tonico verde questo fa pure degli materi sono bellissimi anche da piettino sul piettino molto molto verde però non mi ha detto ancora cos'è allora questo è un tonico vernier bio per il viso antimo tonico perfeccionatore che è lotion perfect attivo equilibrante con essenziali essenziali di etimo biologico allora devo dire che un tonico viso mi manca da tipo due mesi lo dovevo sempre andare a prendere però insomma non è che faccio più antigerità negozi ormai e quindi avevo tocchiato questo su amazon però per un modo o per l'altro non l'ho mai preso questi questi super belli quindi ti ringrazio veramente veramente tantissimo per il pensiero che ho avuto grazie mille non c'è l'ora di provare penso che stasera mi farò una bellissima skincare sarà pure molto molto riprescante poi visto che la mia bel porterò un po' tanto al grasso questo che è purificante secondo me è molto indicato grazie grazie ancora grazie mille questi regali provengono ovviamente dalla mia playlist amazon quindi è sempre veramente molto gentile da parte vostra quando vi fate dei regalini vi ringrazio veramente vediamo tanti oh wow 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 ragazzi le nuove parrette della food spring extra chocolate sto adorando veramente tantissimo guardate poi lo scatolo allora devo dire che la confezione non si sono impegnati più di tanto produttori ecco il dolcino è fatto così dentro protein bar da 10 grammi di proteine extra cioccolato al soft caramel vediamo una com'è questo è il nuovo packaging delle parrette nuove della food spring allora devo dire che forse il packaging mi piace più quello vecchio però le pareti sembrano molto interessanti grazie mille che bello 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 è un po' più sveglia sicuramente più felice durante la lezione grazie mille si questo me la porto poi vi faccio sapere magari alle stories il feedback che ho questi prodotti quindi se non mi segui su instagram puoi andare a trovare il link nell'info box che io consiglio sempre 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 di lacero ok arriviamo all'ultimo regalo che è un autoregalo in realtà due autoregali allora il primo che ti faccio vedere è il volume 4 di Alice Academy purtroppo invece mi manca il volume 2 che non trovo reperibile da nessuna parte io vorrei tantissimo fare la collettione di questo manca però il problema è che non si trovano i volumi o almeno se ne trovano veramente pochissimi quindi devo un po' spulgiare tra fumetteria o librerie per cercare di reperire anche il volume 2 e tutti gli altri volumi che verranno perchè per me non sapete che non è più zonato l'alizia è una parte di branca con tutti i piccoli e diciamo che l'alimento si prende al volume 18 e invece mancava addirittura fino al volume 27 e quindi vorrei assolutamente per averlo e poi non è solo l'unica cosa, è quello che mi sono fatto questa fantastica borsa allora, c'è una storia dietro a questa borsa l'ho presa perché la mia borsa dell'università è veramente schifosa c'è brutta 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 poi visto che la uso ormai da quasi due anni sempre porta dentro un eccetera a parte di color panna ma poi è aperta poi si è sporcata di penna, di tè c'è veramente una nota schifosa di sporcizia varia quindi ho pensato Sara, ora ti fanno due regali ossia li compri una borsa perché da tanto tempo che non ti fai due regali di questo tipo quindi ti compri una borsa la usi per l'università e la tratti bene e te la prendi nera perché almeno così non si sporca di nero quindi oggi sarà la prima volta che la utilizzerò è abbastanza capiente ora non so se c'entrerà anche il computer ma ne dubito in caso me lo portano una borsa a parte ma comunque molto capiente posso metterci l'acqua, la merenda, i termini comunque posso portarmi anche l'alba tutto il libro da leggere oppure anche il termos per il tavolo di caffè è la borsa di AUKUSAINZ 19802 e l'ho presa su Amazon ho cercato una borsa nera grande e l'ho pagata intorno ai 30 euro però devo dire che la qualità ci sta tutta ragazzi poi non so che mi piace che ho questi ferretti sotto almeno così non faccio tutto il tessuto direttamente a terra ma solamente per il ferretto quindi non va a sporcare proprio il sotto della borsa comunque appena la riempirò vi farò un What's on my bag perché sono delle tipologie di video che a me piace veramente è tantissimo, tantissimo, tantissimo guardare io spero che il video vi abbia rilassati che vi sia piaciuto tanto spero tanto tanto e che voi vi siate un po' addormentati fatemi sapere cosa pensate di queste cosine che ho ricevuto e che mi sono regalate noi ce li vediamo in un prossimo video e se vi va mettete like a questo iscrivetevi al canale che lo supportate sempre tanto tanto in questo modo ciao ragazzi buonanotte